Spesso il nostro aspirapolvere emana cattivi odori. Adesso ti mostro come evitare questa cosa. Andiamo a mettere una manciatina di sale grosso all'interno di una tazzina o ciotolina, come preferisci. Aggiungi poi tra quattro gocce di olio essenziale, quello che preferisci. Io utilizzo quello alla lavanda perché ormai chi mi segue sa che è uno dei miei preferiti. Questa miscela farà sì che il tuo aspirapolvere non emani più cattivi odori per almeno tutto l'utilizzo del filtro pieno. È veramente facile da utilizzare e ti assicuro che il risultato è garantito. Vai un pochino a mescolare la miscela in questo modo senza utilizzare un cucchiaino. Io lo verso sopra la cuccia dei gatti in questo modo, ecco qua. Tanto come vedete è da aspirare e vado appunto ad aspirarlo con l'aspirapolvere. Rimarrà all'interno del serbatoio finché il serbatoio non sarà pieno e andrà svuotato. E ogni volta che lo utilizzo il mio aspirapolvere profumerà. Se invece avete un aspirapolvere con il sacchetto, inserite il tutto direttamente all'interno del sacchetto. È facilissimo, sarà profumato per tutta appunto la durata e poi ripetete ogni volta che vi serve. Spero che questo video vi sia stato utile, fatemelo sapere nei commenti. Iscrivetevi al canale e lasciatemi un pollicino di supporto. Ciao e alla prossima!